Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su PS 2021 con un nuovo episodio con il nostro Monza Oggi andremo a giocarci la partita contro la Fiorentina e finiremo anche in mercato estivo Allora, Holan purtroppo non sta tanto bene, quindi oggi iniziamo con Pinamonti, purtroppo mi tocca far così Debutto per Wirth, prelevato dalla Juventus e vediamo un po' come riuscirà a entrare in squadra, come riuscirà a entrare nel meccanismo della squadra Ci vorrà un po', però secondo me potrebbe essere un buon acquisto, speriamo, almeno Partita contro la Fiorentina, veramente complicata, perché la Fiorentina è una bella squadra Gioca un buon calcio, potremmo avere molte difficoltà quest'oggi Sulemana, che deve replicare la scorsa partita, Sulemana, niente, calcio d'angolo Allora, Medina Per Oriol, che per poco non ci arriva Bravo Cassata Oriol Suarez, con calma ragazzi, con calma, non perdiamo palla Bravo Medina, l'hai visto? No, era per Cassata al centro Era per Cassata al centro la palla L'avevo visto muoversi molto bene Peccato, peccato Ross è tuo, eh Bravo Ross Bravissimo Schubert che esce Mi ha quasi Io non ho parole Che cavolo è? Che cavolo è? Vabbè Va bene Va bene Va bene Calma Non è successo niente Ok Facciamo finta che non sia successo niente Wirth Bravissimo Per Pinamonti, sì di rovesciata Pinamonti Già non fai gol normalmente Figurati di rovesciata Harrington Cassata Medina Sulemana E dai E dai E dai 1-1 1-1 1-1 Pinamonti? Veramente? Oh, l'ha fatto col Pinamonti Vedi? Vedete? Alla fine criticare a volte Va bene Perché più critichi E più alla fine succede questo Quindi Bravo Pinamonti Adesso devo Criticare qualcun altro Se no non Non riusciamo a far gol Ok Finalmente Siamo come se fossimo 0-0 1-1 Ma Tutto da capo Nessuno vince Bene così Ora possiamo ricostruire la nostra partita E andarla a vincere Medina Sulemana Bravissimo Sulemana Per Medina Cassata Ce l'ha il tiro Cassata Ce l'ha Ho voluto provare apposta Perché Ha un buon tiro Bravo Sulemana Anche se era di mano Sulemana Uh Ci stava arrivando Harrington Suarez Medina Medina No Sulemana Mio Prestiamoli Che anche loro possono sbagliare Bravissimo Bravissimo Oriol Bravissimo Oriol E' però qualcuno che si faccia vedere Non farebbe schifo Se si può Se si può eh Non è obbligatorio Bravo Cassata Ancora lui Ancora Cassata Ha preso Ha preso il nos Cassata Per un attimo Sembrava che Potesse saltare tutto in velocità Medina Oh è tua Eh vabbè Qualcuno però poteva arrivarci Su quella palla Era molto Ghiotta L'occasione sembrava buona Bravo Eric Bravissimi ragazzi Harrington Wirth Che non si è visto molto Eh Niente Sbaglia anche il passaggio Wirth Bravo Eric Eric E' entrato bene in squadra Abbastanza Abbastanza Sulemana Medina Bravo Medina Ancora Sulemana Cassata Da fuori Sempre Deviata Ancora Medina Sbaglia Il colpo di testa Bravo Sulemana Errington Ancora lui Bravissimo Eric Sulemana perde il pallone In maniera Scandalosa Ma recupera anche palla Quindi va bene così Minamonti Oh oh Errington Oh ragazzi Ma che è Dragoschi Bravissimo Bravissimo Dragoschi Anche molto fortunato Ancora Ancora Errington Medina Medina Sulemana Sulemana 40 di più Cioè non lo so Cosa vogliamo parlare Mamma mia Mamma mia Perché Medina C'ha questo braccio Volante Ogni volta La becca un po' Col braccio Un po' Col petto Con tutto Comunque Il tempo Rivedibile Molto rivedibile Chong Per Sulemana E chi potrei mettere Chi potrebbe cambiarla Ed Er per Wirth Yes Poi se va male Mettiamo anche Oland Ci proviamo Al posto di Pinamonti Proviamo a cambiare Questa partita In un qualche modo In un qualche modo Suarez Suarez Da solo Pinamonti Ancora Suarez Errington Cassata Per Medina No male 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 Avevo visto un pertugio Riparte la Fiorentina Eh però I miei dormono Bravissimo Eric Eroe Eroe Intervento veramente Fantastico Un recupero Meraviglioso Pinamonti Per Chong Chong Dorme Chong Chong Svegliati Riparte la Fiorentina Con Pulgar Per Pedro Ma c'è Eric Garcia Che chiude benissimo Ancora Errington Cassata Ripartiamo Chong Bravissimo Dai Pinamonti Per Errington Per Errington Di quanto Non è passato Di quanto Non è passato Ragazzi Errington Cioè Incredibile Incredibile Una sfortuna Incredibile Ed è Pinamonti 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 Dragoschi Dragoschi Eh Dragoschi è un buon portiere È un buon portiere Pinamonti Che palletta Di Pinamonti Per Chong Che la spreca La spreca La spreca Chong Maledetto Chong Maledetto Come è fatto a sbagliare Che Che palletta Ma che palletta Gli ha dato Ma come fai Gol buttato via Gol buttato via Questo ragazzi Gol buttato via Sono quelle occasioni Che non ti ricapitano Spesso Riparte la Fiorentina Bravo Eric Medina Con calma Suarez Ripartiamo Per Oriol Errington Cassata Eh Però Cassata Non va bene Il passaggio Riparte ancora La Fiorentina Milenkovic Ma c'è Ross Bravissimo Qualcuno che ci vada Ma quando mai Bravissimo Bravissimo Suarez C'era un po' Un fallo Anche in realtà No No Errington A vuoto Bravo Oriol Che recupero Oriol Riparte Oriol Vede Chong Chong Da fuori Eh però Ragazzi Facciamo dei tiri Che sembrano Telecomandati Cioè Tutti al centro Io non lo so Poco potenti Olan Mi servi tu Lo so che sei un po' Giù di morale Però mi servi Non so cosa dirti Quindi cerca di fare Quello che devi fare Visto che ti pago Bravo Eder Pinamonti Dormi Pinamonti Dormi Dai Chong No Non lì Non lì Non lì Era per cassata Vabbè Bravo Oriol Che recupera la palla L'hai visto Eder Eder che perde Perde il tempo Calcio d'angolo Dai Che qua Olan può far tanto Comunque Buona partita Di Di Pinamonti Ha fatto pure gol Quindi buona Olan di testa C'era quasi arrivato Di partenza Della Fiorentina Ma c'è Eric Garcia Vede Olan Olan Eh però Olan A meno il fisico So che sei giù di morale Però a meno fisicamente Ti prego Ti prego Cassata Per Chong Olan ci prova Non ci arriva Eh la Fiorentina È un avversario duro Porca miseria È duro da morire Bravo Olan Chong Uno due No vabbè No vabbè Non ci credo Ma come fallo Ma come fallo Ma quale fallo Ragazzi Ma cosa Ma cosa Vabbè Sì fallo In effetti Sì In effetti fallo È dato un calcio A pezzella Chong Comunque Uno due Fantastico Peccato che Chong Abbia dormito Su quello Su quello Uno due Bravo Harry Niente Bravo un corno Di parte La Fiorentina Con Chiesa Che ancora qui Non so perché Dovrebbe essere La Juventus Chiesa Bravissimo Medina Per Chong Cassata Cassata Troppo lento Cassata Troppo lento Dai Fatica Cassata Per Chong Oland Eder E vabbè La Fiorentina C'ha la difesa Che è Incredibilmente Potentissima Non si riesce a passare È una roba Incredibile oggi Ci sto a provare In tutti i modi Per far gol Dai Harrington Eh però Harrington Porcaccia Miseria La palla Non puoi perderla Così Non è fallo Non è fallo Mai Non è fallo Mai Ma dov'è fallo Qua Qua era sulla palla Qua era sulla palla Qua era sulla palla Punizione Per la Fiorentina Con Pulgar Calma Bravi Ripartiamo Chong Eder Harrington Per Oland Eh però Harrington Cauti dal cazzo Figlio mio E siamo due E siamo due Sei stanco Esci Giocavo in dieci Non mi interessa Cassata Oland Harrington Eder No va bene Vabbè No vabbè Per chi Per chi raga Comunque Dragoschi Oggi è fenomenale Per me si è drogato È incredibile Dragoschi oggi Para anche i moscerini Para anche i moscerini Basta raga È finita È finita E dai Oland Si è penetrato da poco Non riesce a fare un scatto Ma porca miseria Porca Tre tiri a dodici Undici in porta Madonna Dragoschi Sembrava Yashin Cioè Io non ho parole Siamo già Sesti Per coppa di Dragoschi Ma mortaggi sua Ma è Dragoschi Quanto costa? Quasi quasi Dragoschi Me lo compro volentieri Cioè Wisdall Ci lascia da Silva In prestito Ok Vediamo un po' Sto giocatore qui È un TS 83 25 anni Molto buono Molto buono Molto molto buono Però non mi convince Non so perché Allora 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 Dragoschi Vediamo Dov'è? Ma perché? Dov'è Dragoschi? Annulla Faccio io eh Faccio io Grazie Fiorentina Troveremo eh Su Oh È un 80 Cioè È più scarso di Schubert Bella barba Comunque mi piace Ma se io prendessi Dragoschi Come secondo Ti diamo Fruit Che non è malvagio Ok Vediamo Intanto ci provo Anche se sicuramente Mi diranno di no Però io ci provo Perché secondo me È un grande portiere Questo è Veramente un grande portiere Ha fatto delle parate Soprattutto l'ultima Su Eder Fantastica Fantastica Non ci ha permesso Di vincere Solo Solo lui eh No Non vuol venire Non vuol venire Eh Ah c'è ancora questo Da accettare Però non posso Immagino Eh no È ancora Ho 40 giocatori In squadra Ragazzi Non riusciamo a far nulla Perché non ci abbiamo Non ci abbiamo La Abbiamo troppo Abbiamo la rosa Troppo larga E non abbiamo più spazi Ormai 40 giocatori Bisogna che almeno Una Ventina Li vendiamo Quasi eh 15 Almeno 15 Non voglio avere La squadra troppo Lunga io Io odio La squadra lunga Dovrò fare Tante vendite Quest'anno sarà Un po' l'anno Della decisione Su chi vendere In generale Tanto saltiamo Le ore Tanto Offerte Non ne arrivano Mi sa No eh Sì qualcosa è arrivato Offerte per Holland E anche Schubert Sì vabbè Juventus per Holland Sì Sì certo Subito Così vincete anche Il campionato Quest'anno eh Schubert Troppo poco Troppo poco Holland Ma guarda Sinceramente no Cioè Scusatemi eh Scusate Cioè con tutto il bene Ok che sono 100 milioni Quasi Però Tanto che ci compro Chi ci compro Venderei qualcun altro Ma Holland no Holland assolutamente no Vediamo un po' McDowell Ecco McDowell In prestito Se non sbaglio Giusto Yes Per me Può anche andare Può anche andare Ciao Mac Ciao Mac E basta Finiamo il mercato Ragazzi Finiamo il mercato Purtroppo Mercato un po' Un po' Così Un po' Discutibile Sinceramente Parlando Discutibile E' poco E' poco emozionante Purtroppo Mi dispiace Ma è così Comunque La prossima volta Debuttiamo In Champions League Tutti pensano Che supererete Con facilità La fase gironi Ma cosa Ma perché dovremo Cioè con tutta sta facilità Abbiamo Bayern Monaco Poi mi sembra Il Liverpool Se non mi sbaglio E' un bonus E' un bonus Cioè Non sarà facile Abbiamo Bayern Che è Estupinan Wow Tutti stanno aumentando Peccato che Peccato che Vabbè Ross Offerta Fallita E' un bonus Di su chi Ma vede lo stesso E vediamo un po' Intanto Ross Si vabbè 687.000 Ma stai scherzando Ma se proviamo a rinnovare Il contratto Così aumenta un po' Il La clausola Così bassa E' qualcosa Di inguardabile Cioè Scusatemi Prende più di stipendio Che Che il costo Di restizione Ma perché Sta cosa Ma perché Cioè E' un 79 Doverall Non è scarso E' giovane anche Non capisco Sta cosa Di PES PES C'ha questa cosa Che i giocatori Fanno 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 cagare A volte Cioè Hanno dei valori Bassi Di 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 Mercato Però poi Cioè Più ingaggio Che Mercato In generale Questo Traorè Dell'Empoli Non è affatto Male Potremmo Scambiarlo Non Con Cassata Sicuramente No Santigazzorla No Moriba No E però Siamo a posto Siamo a posto Sul centro Siamo a posto Purtroppo Gio Pedro Questo qui E' una punta Non è malvagia Non è malvagia Noi attacco Purtroppo Abbiamo Olan Che è buon Che è buonissimo E Der Che però fa l'esterno E Pinamonti E basta Pinamonti Ok E' forte Però 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 Ma Pinamonti Quanto costa Scusate Sono Con tutto di bene Non è che gli sto da troppo Un attimo Pinamonti Quanto vale Pinamonti C'è scritto da qualche parte No eh Quando mai Quando mai Allora Un attimo Quanto vale Pinamonti Vabbè 16 milioni Alla fine Non vale neanche tantissimo Non vale neanche tantissimo Cioè Sinceramente Confronta Con Pinamonti Si può No Non lo fa fare Vabbè Sinceramente Con Pinamonti Volentieri Facciamo Facciamo un passo in avanti A mio parere L'ingaggio Va bene Ok Tre anni Beh Clausola Comunque 28 milioni Anzi Facciamo una plus valenza Secondo me E andiamo a guadagnarci Andiamo a guadagnarci Abbastanza E niente Ragazzi Direi che È tutto per il momento Noi la prossima volta Ci becchiamo Con il Bayern Monaco Che insomma Non sarà facile Però Insomma Ci si prova Ecco Bayern Monaco Braga E Manchester United Cioè Ragazzi Ma di cosa vogliamo parlare Vincere il girone Non sarà facile Per niente Sarà quasi impossibile Sarà quasi impossibile Ragazzi È tutto Noi ci becchiamo Al prossimo episodio E niente Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima